A Tocca il sito e la mamma Questa fortuna Com'è? Vieni tesoro Baci Costantino Ma non si vede niente Non si sento la frase Spara Ok, grazie Ok, grazie mille Cicco il pop-corno No, vai, vai Eh, allora, tu devi cagare Tanto acero Fino a quando stiamo qui allora Moira? Fino a 12 dicembre, scusa la voce ma Ma non ti preoccupare Freddo, caldo, freddo, caldo Sono diventata rauca La mia zia è Moira, è sempre bellissima Quindi va bene sempre Quindi fino a 12 dicembre noi vi aspettiamo qua In piazzale Corvetto Piazzale Cuoco, Corvetto, dov'è qui? Viale Puglia Viale Puglia E si vede il tendone gigantesco Il circo è quello di Moira Chi non lo conosce Dimmi tu qualcos'altro che posso dire Del tuo bellissimo circo Le diciamo che ha fatto Abbiamo fatto una specie di È un musical L'ho visto Musical, sì, hai visto, no? Cioè tuo figlio E la sua fidanzia La bisita La sua compagna Sbaglio No, sono sposati Sono sposati, eh, vedi Sua moglie È sua moglie È anche un bambino E tu sei nonna, allora? Sì, porca miseria E quindi vi aspettiamo tutti quanti I bambini vedo che si stanno divertendo Io sono lì, mi sto divertendo anch'io Ti piace E' diverso dall'anno scorso Io vengo tutti gli anni a trovarti E poi la seconda parte è più bella ancora E allora adesso noi andiamo a vederci la seconda parte Non possiamo che ringraziare la Io la chiamo zia per confidenza, eh Non per altro Ma no, no, io ho piacere che mi chiami zia Grazie ancora di averci ospitato a casa tua Ma figurati, Costantino Ciao a tutti Mi dici ciao Gazza dei VIP? Gatta? Gazza dei VIP Gazza Ciao, Gazza dei VIP Grazie tante Grazie a tutti